Da candidato sindaco del Partito Democratico a candidato sindaco del centro-sinistra. Un passo in più verso il governo della città per la prossima tornata amministrativa, ma non è stato facile per Cristian Fanesi ottenere la candidatura di tutta la coalizione che detiene l'attuale maggioranza. Alla fine però il risultato vincente sul suo antagonista Samuele Mascarin per tre voti soltanto è arrivato. Una competizione che si è mantenuta sul filo del rasoio, voto dopo voto, fino al risultato finale, il cui esito, per sicurezza, è stato controllato due volte. 1.700 i voti per Fanesi, 1.400 i voti per Mascarin, con un vistoso calo dei votanti che rispetto al primo turno, quando si recarono ai 6 G3.071 persone, si sono ridotti a 2022. Ora Cristian Fanesi si appresta insieme a Lucas Filippi, candidato per il centro-destra, e a Stefano Marchigiani, candidato dei progressisti, a competere per le elezioni finali dell'8 e 9 giugno. Devo ringraziare prima di tutto chi mi ha sostenuto, è una vittoria per pochi voti, per tre voti, ed è comunque una vittoria importante, alla fine di una competizione leale. Quindi grazie davvero tanto a chi mi ha sostenuto, a tutte le persone che mi hanno dato la loro fiducia. quello che dalle primarie si profila, prima di tutto il centro-sinistra è un candidato sindaco, ma anche una squadra di persone che faranno una campagna elettorale da qui all'8 giugno decisiva e farà la differenza rispetto al centro-destra, che invece appare come un uomo solo al comando. E adesso inizia il bello, inizia una campagna elettorale importante, che ci porterà appunto alla vittoria dell'8 e 9 giugno. E con d'ora in avanti comincia un'altra competizione elettorale, un po' più lunga, che si prolungherà fino al mese di giugno. Qui vale più la figura delle personalità che sono appunto antagoniste, oppure i temi che loro proporranno per la città? Noi dovremmo essere bravi, competenti, seri, per dimostrare che l'idea che noi abbiamo sul tavolo e soprattutto l'idea di far continuare a crescere questa città, è un'idea che possa essere vincente rispetto a un candidato della Lega e di Fratelli d'Italia. Samuele Mascarin ha perso per un soffio la candidatura a sindaco del centro-sinistra, ma a quanto pare, in vista delle elezioni del prossimo mese di giugno, non si tira indietro. C'è già un risultato per me che è molto importante, che è quello di essere riuscito ad ottenere le primarie, per mettere nelle mani delle cittadine e cittadini la scelta del candidato a sindaco del centro-sinistra. Oltre 3.000 persone sono soddisfatto perché è un risultato non solo personale, ma è un risultato che è il prodotto della mobilitazione di decine di volontari e volontari, che colgo l'occasione per ringraziare. Ho fatto ieri sera immediatamente i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a Cristian Fanesi, che è il candidato a sindaco del centro-sinistra. Ovviamente a partire da oggi si riparte per rendere più forte il centro-sinistra e all'interno del centro-sinistra fare in modo che la sinistra continui ad avere quello spazio, quel protagonismo che deve assolutamente avere per consentire una vittoria contro il centro-destra giugno. Una destra che è forte in tutto il paese, con un candidato giovane e forte, Luca Serfilippi, che però non è imbattibile e spetta al centro-sinistra a mettere in campo le donne e gli uomini, i programmi e le idee per riuscire a garantire ancora una volta che questa città non vada a destra ma possa essere governata dal centro-sinistra, come è stato in questi anni di buon governo.